Buon pomeriggio e buon samato da Firenze Smart. Mauro Ciutini in studio. Code in diminuzione sul A1 6 km in galleria per lavori tra il B1 variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Sempre sull'A1 traffico intenso a Rioveggio pervenendo da Firenze. Ricordo in A1 chiuso per lavori il tratto tra Aglio al km 255 e Roncobillaccio dalle ore 21 alle 6 da lunedì 27 a giovedì 2 marzo. Entrata consigliata verso Bologna a Pian del Voglio, uscita consigliata provenendo da Firenze. Badia su variante di Valico. Miriamo ai treni, un controllo tecnico a bordo al 18492 Firenze, Santa Maria Novella, Pisa centrale e viaggia con 21 minuti di ritardo. È tutto per il momento. Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!